Buongiorno, anzi buonasera e grazie per resistere stoicamente dopo tutte queste ore. Tanto il grazie non di maniera alla Camera di Commercio per aver voluto intraprendere queste iniziative ma soprattutto per il ruolo di coordinamento e il ruolo ordinatore che ha inteso intraprendere rispetto ad Expo. Expo ha senso solo se permette di partecipare a qualcosa, solo se coinvolge, se si caratterizza come un evento di relazione di rapporto perché i paesi che verranno all'Expo, che prima di essere un evento commerciale e altro racconteranno una storia, la loro storia e allora anche noi dobbiamo raccontare la nostra storia la storia e l'esperienza di uomini che sono radicati in un territorio, in una cultura. Il cammino di Expo è il cammino verso il futuro, verso quel futuro che Expo Village nella sua Road to Expo ha chiamato Ingegno un cammino pensato per coinvolgere tutti, per dare voce alle donne, agli uomini. Ecco, noi vogliamo essere protagonisti di questo cammino lasciandoci stupire e coinvolgere da questa entusiasmante avventura. Già, ma noi chi siamo? Chi è Expo Village? Siamo persone prima di ogni altra cosa, persone profondamente convinte che il successo di Expo risulti dovuto al fattore umano di chi si spende in prima persona mettendoci del proprio e credendoci anche molto perché secondo noi è questo che fa la differenza. Ci piace l'idea che il nostro lavoro, la nostra passione, questo giocarsi in prima persona possano in qualche modo risultare protagonisti di questo evento universale. Gli obiettivi li trovate nella slide, sono diffondere la comprensione del significato, comunicare contenuti, offrire suggestioni, mettere in luce approfondimenti, fatti, significati. Già nel 2008 abbiamo realizzato il primo evento ufficiale di Expo e da allora la Ronto Expo non si è più fermata. Proprio nel 2008, anche in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, ringrazio ancora la lungimiranza del dottor Temperelli, ci ha permesso di organizzare il primo evento ufficiale, come dicevo, che all'interno dei propri seminari ha tenuto tre seminari che indagavano il tema di Expo rispetto all'università, rispetto agli attori economici e rispetto agli amministratori locali. Ecco, da allora dicevo la Ronto Expo non si è più fermata, ma che cos'è oggi la Ronto Expo? È fare, innovare, compiere, perché noi vogliamo dare azione al pensiero, corpo ai verbi, perché la nuova innovazione cammina sulle gambe delle persone, nella concretezza del loro agire, nella fatica di tendere quotidianamente all'unico risultato possibile. E allora nutrire il pianeta non è solo uno slogan avvincente, ma diventa un percorso concreto. Questa è la Ronto Expo. E allora la nostra proposta favorisce nuovi spazi di incontro e confronto, è un luogo fisico, una nuova agora, stimola la creatività, comunica contenuti attraverso eventi, incontri, dibattiti, ricerche, coinvolge la società civile per essere protagonisti attivi e non passivi dell'esposizione universale, offre visibilità a progetti innovativi attraverso programmi specifici, contamina, la contaminazione per noi è fondamentale, offrendo esempi concreti, suggestioni, spunti originali rispetto ai quali confrontarsi, ai quali pensare. Arte e cultura spesso sono i codici di comunicazione e interrelazione che vengono usati. Chiudo raccontandovi di qualche progetto a breve sulla Ronto Expo. Il primo progetto è Merzare, distruzione progetto, è un progetto sul riuso di materiali, oggetti, edifici. Merzare significa ridare dignità a qualcosa. Indaghiamo rispetto agli edifici, all'architettura, agli oggetti quotidiani, quale può essere la dignità che possono trovare. Fine maggio, assaggi di Bahia, musica, cibo, letteratura, la convivialità, quale elemento fondamentale e fondante del tema di Expo. Portiamo dentro il fuori, settembre, approfondimento e performance artistiche su come il colore genera benessere, considerando che ognuno di noi quotidianamente si alimenta di colore. Ancora, il Coaching Week, un modo di essere, un approccio maieutico all'uomo e alla realtà che parte dal profondo. Tutto questo è Road to Expo. Oggi Road to Expo, allora probabilmente visione profetica, mi riferisco al 2008, diviene strumento di sopporto della Camera di Commercio. Prosegue in quell'alve o tracciato dalla Camera di Commercio stessa, nel modello operativo 5 strade per Expo. Dispiega destinazioni e prospettive, ed ogni nuovo viandante contribuirà a compiere passi, a identificare parole, a scrivere una nuova pagina. Noi vogliamo essere protagonisti di questo. Grazie.